Come è il suo futuro? 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 Per quanto riguarda il percorso educativo nella scuola secondaria. Ma prima di fare questo volevo farvi vedere uno schema molto sintetico di com'è adesso la scuola italiana. Probabilmente non ce ne sarebbe bisogno, anzi sicuramente non ce ne è bisogno perché loro qui presenti sono tutte persone consapevoli ma anche genitori probabilmente. E quindi sanno come ormai dopo la riforma del 2010 funziona e organizzata la scuola in Italia. Vedete che c'è un primo ciclo, noi siamo soliti definire tutta l'organizzazione in due cicli, il primo e il secondo ciclo. Sostanzialmente il primo ciclo va dalla scuola dell'infanzia fino alla terza media, e anche io storicamente uso questo termine, e il secondo ciclo prosegue fino alle soglie dell'università, come vedete dallo schema, che non è mio ma è di diretta filiazione ministeriale. Poi c'è il percorso successivo, che è quello universitario, al quale come vedete però, già prima diceva il Presidente, si affianca all'istruzione tecnica superiore, che è un'assoluta novità, anche se non una novità novità. Perché ormai sono tre anni che gli istituti, gli ITS, sono presenti sul territorio nazionale, con una buona caratterizzazione per ascolto delle esigenze del territorio, ma anche come un'opportunità non da poco per gli studenti, per un percorso di affiancamento alle loro competenze. Sono percorsi biennali, con due semestri per ogni anno, e da quello che abbiamo visto, anche nella nostra regione, offrono grandi possibilità di impiego immediatamente successiva all'uscita dal percorso. Su questo io credo che un collegio come il vostro debba puntare moltissimo, tanto più che, ma ve lo dirà meglio, l'assessore Rossetti è previsto un ITS per i geometri del mare, se non ho capito bene. O comunque sì, un'occasione di approfondimento di questo percorso. La scuola secondaria di secondo grado, come vedete, offre una duplice possibilità ai ragazzi. Da una parte quella tradizionale, nella quale lo stesso CAT è inserito, è quella degli istituti tecnici, degli istituti professionali e degli istituti e dei licei. L'altra invece è il percorso della formazione professionale, quello che sta nella slide sulla destra. Per cui con i percorsi triennali, che sono noti, con una qualifica, un eventuale percorso ancora per un anno, e poi l'eventualità per gli studenti di rientrare nel percorso formativo dell'istruzione normale, oppure di cercare e trovare un lavoro. Questa è la sintesi della nuova secondaria superiore, come appare dalla riforma che è del marzo del 2010. I decreti del Presidente della Repubblica sono appunto del marzo del 2010. E come vedete, per quanto riguarda i nuovi tecnici, il punto numero 9 è quello di costruzione, ambiente e territorio, che vi riguarda più da vicino. La riforma del 2010 rappresenta uno snodo, non ancora l'ultimo sicuramente, dirò poi dopo il perché, ma certamente importante di un processo pieno di incertezze e di ripensamenti, che si attua già a partire dagli anni Ottanta, dal periodo della grande sperimentazione assistita al riordino dei cicli del Ministro Berlinguer, a passare attraverso la legge Moratti, la numero 53 del 2003, con i decreti legislativi attuativi. Perché non ancora l'ultimo snodo? Perché, come avete visto, il Governo ha recentemente emanato un documento, ieri abbiamo avuto qui il maggiore estensore di questo documento, il dottor Lucisano, che è il capo della segreteria tecnica del Ministro Giannini, il quale ha presentato ai ragazzi e ai genitori, ma stanno facendo un tour in tutta Italia, questo documento, è un documento piuttosto corposo, lo potete trovare sul sito del Ministero, istruzione.it, oppure anche sul sito del nostro Ufficio Scolastico Regionale, che vi consiglio, magari come operatori del settore, ogni tanto di navigare, perché spesso noi pubblichiamo materiali informativi e informazioni in generale sul nostro approccio alle novità della scuola secondaria di secondo grado, ed è www.istruzioneliguria.it. Dicevo perché non ancora l'ultimo snodo? Perché da questo documento appare in filigrana il desiderio del Governo, non di fare una riforma rispetto a questo, ma di implementare e modificare, a volte anche radicalmente, alcuni aspetti di procedura e di caratterizzazione dei singoli indirizzi che sono contenuti appunto nella riforma del 2010. Quindi un documento importante da vedere, che vi consiglio di andare a consultare, se non altro per offrire entro il 15 di novembre un vostro personale, come cittadini italiani, contributo all'interno del sito che vi ho detto, del Ministero, oppure per dare al vostro collegio indicazione di che cosa ne pensate in merito. Ho preso una frase di Bloch, tratta dal principio della speranza, proprio per provare a fare un'introduzione, l'ho già un po' fatta sulle cose che volevo dire. L'importante è imparare a sperare. Dove non si può fare nulla di nuovo non è possibile nulla, la vita si ferma. Questo vale per tutte le riforme, vale in modo particolare per le riforme dell'istruzione. Quando qualcuno dice che non c'era più bisogno di una riforma, io non sono molto d'accordo. Io credo che la scuola, come tutti i settori, in un mondo complesso come il nostro, abbia bisogno di continua riforma. Perché, come vedremo dopo, di continuo ripensamento? Perché i giovani non sono sempre uguali. Anzi, il mondo dei giovani cambia in modo radicale. E se noi adulti, e noi educatori in modo particolare, penso anche voi vi riteniate tali, non modifichiamo i nostri approcci, addirittura anche non calibriamo meglio le nostre emozioni nei loro confronti, credo che non andiamo da nessuna parte. Quindi non è soltanto una questione di riforme strutturali e organizzative, ma è soprattutto una riforma di pensiero, un approccio di pensiero, un approccio culturale rispetto alle novità del mondo, che vanno comunque avanti, anche se noi non vorremmo. Noi adulti, normalmente, siamo persone che riteniamo di pensarla poi sottosomato così, ma chi ce lo fa fare a cambiare? Pensateci un po' anche nel vostro lavoro. Però è così. Se non cambiamo, se non abbiamo questo approccio e questa vocazione culturale, non andiamo da nessuna parte. La scuola italiana si è sempre dibattuta, per rimanere nel tema, tra queste due idee, di scuola comprensiva e di scuola vocazionale. Sinceramente la riforma del 2010 non presenta sostanzialmente una svolta epocale rispetto a queste due tematiche, ma una prima definizione di questioni che negli altri paesi europei hanno avuto diverse forme. Da una parte, appunto, caratterizzate dalla scuola comprensiva, quella generalista, quella che, permettetemi, ho frequentato io e molti di voi, ad una scuola vocazionale fondata di più, come quella di oggi, sul rapporto più stretto col mondo delle professioni e col mondo del lavoro. Naturalmente, con l'eccezione tedesca, sadalmente attestata sul cosiddetto canale duale. Guardate, leggevo l'altro giorno, non so se è capitato anche a voi, come funziona questo canale duale nella scuola tedesca, molto sinteticamente. Pensate che è un grande sistema di valorizzazione dell'alternanza scuola-lavoro, per cui la stragrande maggioranza degli istituti offrono agli studenti tre giornate di full immersion all'interno delle aziende della settimana, tre giornate della settimana e due sole giornate a scuola, naturalmente per l'ultima tranche del percorso formativo, non per i bambini piccoli o per i ragazzini. Questo la dice lunga sul fatto che in altri paesi europei la cosiddetta alternanza scuola-lavoro, che in Italia stenta piuttosto a prendere campo, è invece un patrimonio ormai consolidato. A questa dialettica, però, corrisponde un modo diverso di concepire il curriculo. Il curriculo, cioè l'impianto di che cosa noi pensiamo sia importante che gli studenti apprendano. Ecco, sintetizziamolo così. Sono tre le tipologie di relazione tra contenuti disciplinari e competenze nei curricoli. Da una parte c'è quella tradizionale che mette al centro i contenuti descritti sotto forma di saperi. Pensate alla nostra scuola e all'epistemologia delle nostre discipline dell'epoca. Ci sono delle cose da sapere e tu le devi sapere. La seconda è quella che mette al centro lo studente in una prospettiva costruttivista e uso costruttivista come aggettivo per ricordare tutta una corrente pedagogica e metodologica che si è sviluppata già a partire dagli anni 60, poi 70, 80, in parte anche 90. Molti di noi, penso che siano, molti di noi educatori, docenti e presidi, credo che siano ancora all'interno di questo percorso. Prospettiva metodologica costruttivista che vede come essenziale il percorso metodologico di assunzione degli apprendimenti più che i contenuti. La scuola degli ultimi 25 anni, 30, ha fatto molta più attenzione ai percorsi piuttosto che ai contenuti degli apprendimenti. I percorsi di apprendimento sono più significativi in quest'ottica rispetto ai contenuti. E la terza è quella che vede al centro gli obiettivi di apprendimento descritti in termini di competenze generalmente fissate da istanze esterne, ad esempio il mondo del lavoro. Come vedete, noi ci troviamo spesso nella nostra scuola, ed è questo secondo me il core del problema, del problema educativo ancora oggi vissuto da molti nella scuola, tra queste tre tipologie di approccio. E guardate che spesso queste tre tipologie convivono ancora oggi non solo all'interno delle singole istituzioni scolastiche, e un professionista come voi non può non sapere queste cose, anche se magari le intuisce perché è una persona adotta, ma convivono non solo all'interno, dicevo, delle singole istituzioni scolastiche, del piano dell'offerta formativa delle singole istituzioni, ma all'interno dei singoli insegnanti. Cioè molti di noi sono spesso dibattuti tra queste tre metodologie di approccio agli apprendimenti. Questo lo dico per cercare di definire meglio qual è l'impianto educativo, ma soprattutto qual è l'impegno che la scuola italiana oggi va facendo anche per quanto riguarda la formazione dei docenti. Noi spesso insistiamo su queste tre questioni importanti perché riteniamo che nessuna delle tre vada buttata via. Certo, c'è superamento continuo di ognuna di esse. Anche tenendo conto di un fatto, anzi di due fatti. Il primo, le esigenze degli studenti. Ma il secondo, come dicevo appunto, come scrivevo nel terzo punto, le esigenze del mondo del lavoro. Sono due realtà che noi non possiamo trascurare. Tutto sommato poi, la via italiana è questa. La tipologia italiana prevalente di relazioni tra contenuti disciplinari da una parte e competenze dei curricoli è stata finora la prima, quella che tradizionalmente mette al centro i contenuti. La seconda e la terza sono quelle che si stanno tentando di far passare con la nuova secondaria di secondo grado sulla base delle ricerche più avanzate dei processi di apprendimento. Questa è l'operazione che più viene fuori dalle linee guida per istruzione tecnica e professionale, compresa quella dei CAT. Mi dica quando devo finire, per favore. C'è una stretta relazione tra modello curricolare e l'organizzazione didattica. La forza dell'impianto gentiliano, cioè la scuola che abbiamo frequentato noi, che inizia con il 1925 sostanzialmente, stava, o come dicevo prima, forse sta ancora, nella coerenza tra i contenuti e le modalità di organizzazione del tempo scuola, degli ambiti di progettazione e di valutazione, del modo di concepire la collegialità, come veste giuridica formale delle decisioni e non come corresponsabilità educativa. Quell'impianto, che è stato in parte scardinato appunto dalla riforma ultima del 2010, era insomma costruito a misura del singolo docente e della sua capacità di insegnare la sua disciplina, nella sua aula, in quella che un sociologo italiano, ormai non più presente con noi, Piero Romei, chiamava l'organizzazione a pettine, cioè tanti individui e un responsabile della legittimità delle procedure, che era il dirigente scolastico, il preside allora. Ma quell'organizzazione presupponeva un tipo di studente, come dicevo prima, che non esiste più. Non esiste più un monopolio dell'agenzia formativa scuola, questo è ben noto, voi lo sapete, l'avete letto sicuramente, sono anni ormai che queste cose le si leggono, le andiamo dicendo anche noi in tante occasioni. Più del 60% delle informazioni, e Dio non voglia, anche della formazione di fondo dei nostri ragazzi, non viene dalla scuola e neanche dalla famiglia. Questo è un dato che ci fa capire il perché lo studente di allora non esiste più. Ed è per questo che non può esistere più una scuola come quella di allora. Anche se, ve lo ripeto, dal punto di vista così dell'affetto che ciascuno di noi che proviene da quella scuola porta anche nel suo far scuola o nel suo essere educatore, coesiste ancora. è stenta a scomparire proprio perché c'è questo profondo affetto di come noi pensiamo alla nostra scuola e come ci rivediamo studenti. A volte molti docenti, lo dicono anche chiaramente, non so se qualcuno di voi qui è docente, ma spesso nelle loro ore di lezione, nelle loro professioni, procedono per mimesi. Cioè per imitazione di antichi modelli di docente che sono stati significativi per la propria vita e per la propria esperienza anche professionale. Però dobbiamo considerare com'è il docente oggi, com'è il studente oggi. Infatti, il gruppo dei pari, quello reale o quello virtuale, badate bene, anche come agenzia educativa e come riferimento valoriale, e questo ci preoccupa un po' di più, è sempre più determinante. C'è una bella idea da Rosario Drago che è stato per tanti anni dirigente scolastico e poi adesso fa il pubblicista. Alla scuola dice molti ragazzi sono disposti a dare il corpo, non l'anima. Guardate che, pensateci un po', ai nostri tempi non era mica così. Noi alla scuola davamo tutto. In pochi anni, ad iniziare dalla scuola media, quasi tutti imparano i trucchi del mestiere, i tempi morti per rilassarsi, le finte, le strategie per non essere notati, cosiddetti imboscati, le infinite tattiche di evasione e di elusione dei cosiddetti doveri. Ma eravamo un po' così anche noi, per la verità. Ma adesso c'è una cosa in più. Pensateci un po'. Le nuove tecnologie, soprattutto il telefonino. E l'uso del cellulare durante le ore di lezione. Io dico sempre ai professori quando li incontro, soprattutto quelli nuovi. Noi facciamo tutti gli anni corsi di formazione per i docenti neoassunti, oppure per quelli, ahimè, precari, che la nuova riforma dice voler eliminare, vedremo, speriamo. Dico sempre la seguente cosa. Guardate che la battaglia dei cellulari o contro i cellulari a scuola è una battaglia persa. Trovate altre strategie che non siano quelle del non si usa. Perché se voi partite dal fatto che non si usa è come se voi diceste non usare una gamba, non usare un braccio, non usare un piede. Atteso che il telefonino per i nostri studenti è un appendice corporea oramai. E quindi capite come possiamo pensare a uno studente come eravamo noi rispetto a quello come è oggi. Che tipo di scuola vorrebbero gli studenti? Guardate molto velocemente perché sono alla fine. Mark Sprensky che è l'informatico che ha inventato il termine nativi digitali ha svolto un'indagine nel 2012 rivolta agli studenti di tutti i ceti sociali di tutte le età e di tutte le nazionalità. Norberto Bortani che è uno studente che è un esperto internazionale di cose di scuola veramente di valore non so se voi avete mai avuto modo a un bellissimo sito andate a visitarlo scritto in italiano e in francese perché lui è bilingue. Ha sintetizzato così la risposta alla domanda che tipo di scuola vorrebbero gli studenti? Vado velocemente non tollerano più lezioni catedrattiche vogliono essere rispettati vogliono che si abbia fiducia in loro vogliono che si tenga conto delle loro opinioni e che lì si apprezzi vogliono coltivare le proprie passioni e i propri interessi vogliono creare utilizzando gli strumenti del loro lavoro vogliono studiare con i loro coetanei in gruppi per realizzare progetti vogliono assumere decisioni essere coinvolti nel controllo dell'esecuzione vogliono essere collegati con i loro coetanei per esprimere e condividere le loro opinioni in classe e al di fuori della scuola pensate a tutta la loro abitudine di usare i network vogliono cooperare competere con gli altri vogliono che l'educazione sia anche legata alla realtà io guardate leggendo CAT le linee le linee guida e vedendo questo ho detto beh è tutta roba da geometri questa molta roba per tutti ma per voi anche le idee forza alla base della scuola secondaria e secondo grado oggi in Italia non è più possibile aggiornare la didattica per accumulo ed ampliare indefinitivamente il tempo scuola non è più possibile aggiungere io vi ricordo non so le vostre esperienze io provengo da un altro indirizzo scolastico ma il numero delle ore che gli istituti tecnici ed istituti professionali negli anni passati prima della riforma e poi per non parlare delle sperimentazioni avevano in curriculum erano un numero esponenziale impressionante come si fa a stare a scuola 38-40 ore alla settimana eppure voi vi ricordate che era così in parte è ancora un po' così in alcuni istituti però il target è di 32 ore perché c'è l'idea che non è il numero di ore alla settimana che conta sul crescimento delle competenze soprattutto che è la preoccupazione della scuola di oggi e della formazione dell'individuo come cittadino quindi il progressivo accumulo già secondo me l'operazione di aver inserito negli istituti tecnici la geografia nel biennio ultima cosa come sapete è quantomeno discutibile perché allora perché non la musica perché no perché allora perché non l'educazione economico-finanziaria che è pure importantissima perché no ma allora che cosa facciamo facciamo una scuola settimanale di 50 ore perché non tutte le educazioni pensate a quante possibili educazioni sono utili perché noi invece pensare ad un curricolo di fondo come la riforma ha fatto in modo lodevole secondo me anche se abbiamo un po' trattati male come geometri diciamoci la verità perché poi ci sarebbe da discutere molto sulla questione del titolo finale vabbè lasciamo l'ampolino e la dibattito e voglio dire che senso ha un accumulo di numero di ore e di educazioni ma queste devono essere trasversali cioè giusto per ricondurci alle competenze europee che voi conoscete bene le competenze europee stanno sul background non possono che essere trasversali dopodiché sono le competenze scusate sono le discipline mai fine ma mezzo tutte le discipline quelle tecniche quelle scientifiche come quelle umanistiche per raggiungere quelle competenze che non possono non essere competenze di tipo trasversale grande questione di grande dibattimento all'interno della scuola italiana oggi questa ma durissima da far passare proprio perché l'abitudine come dicevo prima degli adulti in generale e dei docenti anche quella di dire ma perché devo cambiare mi costa fatica e dall'altra quella di dire io sono affezionato al mio modo di far scuola vedete come difficile e duro e in tutto questo poi rientra il discorso che mi piacerebbe fare dopo non so se ho tempo relativo alla laboratorialità che è cosa che riguarda molto moltissimo voi sono cambiate le teorie dell'apprendimento comunemente accettate dalla comunità scientifica accogliendo quelle che puntano come dicevo prima sull'importanza delle relazioni nell'ambiente di apprendimento e sulla operatività innovare ecco un'altra idea forza non vuol dire fare tabula rasa del passato ma agganciare tradizione e modernità questa è una cosa che voi potreste fare benissimo come collegio aiutare gli insegnanti che lavorano in questi istituti dove c'è il CAT a recuperare la bella tradizione vostra del geometra di una professionalità molto molto stimata molto italiana con la modernità di queste idee che nella scuola circolano da tempo puntando su una didattica capace di correlare il sapere col saper fare la conoscenza con la competenza e quindi un modo nuovo di guardare all'apprendimento guardate un po' un'altra idea di formazione prendono sedie e si accomodi ecco due parole sulla didattica laboratoriale che l'espressione indica essere quasi come un'attività tesa raggiungere un risultato di apprendimento definitivo e concreto attraverso una serie di procedure e di attività operative progettate verificabili dall'insegnante ma che cos'è il laboratorio è solo un luogo fisico o più precisamente è da definirsi e da pensarsi come un luogo della mente perché guarda che su questo si gioca tutto si gioca anche questa è una possibile risposta possibile molto da articolarsi questa banalizza un po' però secondo me rende molto l'idea è una risposta possibile alla protesta che c'è stata dopo la riforma nella quale si dice negli stiti tecnici e professionali sono diminuite drasticamente le ore di laboratorio è vero su questo non c'è dubbio ma perché sono diminuite per l'idea di cui dicevo prima cioè l'idea di non offrire a degli studenti una settimana di 38 ore voi direte sì a scapito però dell'operatività sì ma come si dice a Genova soffiare e sorbire non è possibile contemporaneamente contemporaneamente quindi l'idea è quella di riconvertire la professione dei docenti in questa direzione guardate che noi con i professionali con i tecnici abbiamo fatto poca fatica in questa regione in questi cinque anni a fare questa operazione perché i professori dei professionali in modo particolare ma anche dei tecnici erano già avvezzi a fare questa operazione stiamo cercando di far passare questa idea nei licei e voi non avete idea di che cosa vuol dire è un'azione quasi impossibile titanica perché la loro abitudine non è questa a pensare il laboratorio tutti i laboratori non solo quelli tecnici e tecnologici ma chimici fisici delle costruzioni tutto quello che volete ma far passare il dia che è laboratorio l'operazione di collegare il sapere con il saper fare che può essere anche della grammatica per dire un esempio che non ha che fare con le discipline di cui si occupa il CAT quindi la didattica laboratoriale cuore del percorso educativo nella scuola secondaria è questo che volevo arrivare per finire consiste nel trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario secondo anche le indicazioni europee dotato di senso di senso vuol dire che sia significativo per i ragazzi oggi molto meno che per noi ricco di motivazioni di fini prevedere scelte collegiali fondate sul profilo educativo e professionale dello studente scelte collegiali dei docenti consapevoli di questo e si concretizza in una progettazione largamente condivisa costituita da una serie variabile di unità di apprendimento di cui è inutile che stiamo a raccontarcela ma molti di voi la conoscono e sicuramente avremo se mai voglia e tempo di ritornare quindi il laboratorio come luogo di acquisizione di competenze cosa sia una competenza la diciamo in modo sintetico con il titolo di quel bellissimo libro di Karl Popper tutta la vita e risolvere problemi quando vado a parlare sempre ai professori nuovi nei assunti dico ma pensate a a una possibile competenza una competenza banalissima raggiungere le competenze utilizzando le conoscenze ma se io vado in una città nuova che non conosco arrivo alla stazione e devo raggiungere un monumento che voglio visitare qual è il percorso più breve se ho una carta davanti che dalla stazione mi fa raggiungere il luogo tutti dicono cerco di fare la strada più breve certo e questo per esempio è il motivo per cui voi professori di matematica insegnate il teorema di Pitagora allora la domanda è ma perché insegno certe cose perché non ne insegno altre perché altrimenti bisognerebbe che io mi mettessi lì e dicessi della mia disciplina devo insegnare tutto certo potrei anche fare questa scelta allora ripeto 50 ore alla settimana ma se della mia disciplina io mi faccio la domanda di cui dicevo prima che cosa serve ai miei studenti e che cosa serve ai miei studenti quando usciranno da questa scuola questa è la domanda che mi devo fare non la domanda devo insegnare tutto e allora ascoltare i ragazzi e ascoltare il loro mondo ma ascoltare anche il mondo delle imprese delle aziende degli artigiani del territorio del mondo del lavoro questo è fondamentale per capire che cosa devo insegnare magari posso anche decidere che il teorema di Pitagora non serva essere insegnato analizzo ovviamente competenza come sintesi di approcci culturali Claudio Gentili ben noto umanesimo tecnologico una sfida culturale del 2010 di Torri la Terza dice è necessario realizzare attorno all'espressione competenza uno sforzo di sintesi dei diversi approcci culturali che abbandoni una volta per tutte il vecchio preconcetto idealista cioè ottocentesco che vuole la scuola legata all'Ozium che non vuol dire non far niente ma l'essere beatamente tranquillo a leggersi un libro ben lontana dal negozium cioè a fare il geometra quindi si tratta di accertare non ciò che lo studente sa ma ciò che lo studente sa fare con ciò che sa ed infine un augurio per tutti voi per i nostri studenti per i docenti di questa scuola per tutti quelli che lavorano ogni uomo dotto che non sappia anche un mestiere diventa un furfante Spinozza grazie visto che l'uso dei telefonini ha detto che ormai non si può più no bisogna bisogna considerarlo come una una parte di noi stessi purtroppo la parte di noi stessi costituisce anche a volte delle interferenze in quello che facciamo grazie al professore grazie intanto per gli spunti che tra l'altro legano poi i concetti principali di questo incontro perché ha parlato di scuola di formazione che non esiste competenza senza conoscenza che più che il sapere il saper fare voglio dire tutte credo questioni credo non credo sono convinto che legano molto la nostra tradizione a questi a questi binomi nel senso che io ritengo che la nostra professione sia quella che maggiormente unisce il sapere al saper fare che sia la più pragmatica e la più concreta possibile rispetto a tante altre per cui magari ci viene anche più facile riuscire a interpretare a vedere queste cose io però adesso della gamba ne faccio a meno faccio a meno della gamba così almeno evito di creare ulteriori scusate dicevo l'unione è proprio quella il fatto di cambiare mentalità per quanto riguarda la scuola mi fa estremamente piacere perché siamo passati circa 12 anni fa più o meno quando parlava di Berlinguer riforma Berlinguer sentivo dire l'estinzione del geometra ormai diventiamo tutti liceali non esiste più questo mi fa piacere che con un po' di tempo perché ci si è messo un po' di tempo però si è capito che l'avere qualcosa di concreto forse è più utile di altre cose non che le altre non siano utili ma certamente questa non può essere considerata fra quelle meno utili insomma per cui si è ripreso un po' la moda se posso usare questo termine dell'istituto tecnico tecnologico che dir si voglia questo ovviamente per noi è un piacere ma gli sforzi sono stati tanti leghiamoci a questo punto alla formazione al lavoro agli ITS eccetera e io direi saltiamo il coffee break perché l'abbiamo appena fatto e siamo arrivati da poco farei l'intervento del vice presidente Antonio Benvenuti dopodiché semmai ci fermiamo in attesa che arrivi l'assessore Rossetti e faremo lì il coffee break anche se non siete d'accordo democraticamente direi che andiamo avanti su questa strada grazie ancora al professore Antonio a te la parola grazie Luciano grazie grazie molte grazie dunque allora innanzitutto saluti da parte del consiglio nazionale da parte di Maurizio Savoncelli e il tutto il suo consiglio porto i saluti a tutti i partecipanti ai relatori e un particolare ringraziamento all'amico Luciano che prima ha detto si è preso una confidenza che non si doveva prendere in realtà lui si può prendere quella confidenza ed altre per l'amicizia che ha io ho saputo di dover venire qui e l'altro che Maurizio oggi è stato convocato al ministero della giustizia per risolvere un problema abbastanza anche delicato che riguarda i collegi che riguarda l'attività l'ANAC la circolare ANAC che ha fatto Cantone per cui è dovuto andare per forza al ministero c'è l'appuntamento all'una e non ce l'avrebbe fatta a fare tutte e due quindi io ho saputo soltanto di essere qui io e l'altro non ho preparato nulla di confezionato ma forse tutto sommato così andare a braccio forse sarò meno chiaro sarò meno incisivo su certi argomenti ma questo mi dà la possibilità di avere la più ampia libertà per collegare quello che è il mondo scolastico al mondo professionale io professore ho apprezzato moltissimo la sua relazione veramente moltissimo molto molto centrata e devo dire molto in linea anche con i nostri progetti che ora andrò a esporre e che sicuramente lo troveranno consensiente beh innanzitutto io con quell'idea di quegli studenti mi ci vedo tranquillamente io mi sento sempre studente ne lo dico la verità perfetto 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 quindi le condivido quello che pensano ragazzi dobbiamo pensare che cosa pensano ragazzi ancora prima di cosa insegnarli e apprezzo moltissimo quando ha detto ha chiesto un aiuto al mondo professionale al mondo scolastico noi lo stiamo già facendo li posso dire faccio alcuni flash perché chiaramente gli argomenti sono molti e le vorrei trattare tutti per dare una panoramica sia ai professori che sono in sala sia anche ai colleghi che sono in sala abbiamo stiamo siamo un'attesa di avere un giorno a disposizione del direttore generale la dottoressa Palumbo perché abbiamo già organizzato dei corsi di formazione da fare a nord centro e sud ai professori di estimo sa che i geometri insomma fanno le valutazioni sono gli unici che hanno studiato le valutazioni per aggiornarli sull'istanda internazionale sulle nuove metodologie cose che nemmeno all'università insegnano e stiamo in attesa che la dottoressa Palumbo ci dia un giorno per fare un seminario poi si farà nei streaming con tutti gli istituti tecnici e poi partiremo con tre corsi perché so che i professori devono fare certe ore di formazione noi siamo a completa disposizione ma ancora di più è uscito fuori un documento della comunità europea io farò un po' un pazzo di quello con la telecamera ma pazienza perché tanto è stato fermo fino a ora e ora lavoro un po' di più perché a me piace muovere non mi piace stare fermo è uscito fuori un documento da parte della comunità europea pubblicato sulla gazzetta ufficiale europea a metà di luglio che come dire detta la strada per le professioni in Europa e individua determinati concetti allora se voi potete andare sul sito della comunità europea trovate questo documento di riforma professioni e lo trovate se leggete questo documento sono le professioni italiane è la fotografia delle professioni italiane quelle professioni che molti nostri politici snobbano a cui hanno dato anche la colpa della crisi non so come noi si possa aver creato le crisi nemmeno per idea proprio però sembrava quasi in un certo momento che le professioni erano quelle che bloccavano lo sviluppo dell'Italia ma dove esiste una cosa del genere se si va a leggere questo documento guarda caso tutte le indicazioni che ci sono identificano le professioni italiane allora uno deve essere un corpo indipendente noi lo siamo tutti i professionisti sono un corpo indipendente sono sotto il controllo dello Stato ma sono indipendenti dallo Stato se fossero un po' di più indipendenti sarebbe anche meglio due devono fare formazione continua abbiamo un regolamento noi partiamo dal primo di gennaio e dobbiamo fare per forza formazione continua dobbiamo dice il documento bisogna eliminare la simmetria informativa che c'è fra cliente e committente giusto perché c'è questa e molti professionisti ci giocano su questo come con codici ideontologici abbiamo il codice ideontologico e con uno standard di qualità i geometri sono l'unica categoria italiana che ha uno standard di qualità so che non è molto pubblicizzato ma lo abbiamo fatto insieme all'ente più importante in Italia l'unico deputato a fare le norme l'Uni siamo gli unici a avere fatto lo standard di qualità noi siamo già in regola col progetto professioni europee del 2020 i nostri problemi non li abbiamo in Europa grazie al ministero di giustizia recentemente siamo stati pubblicati sul database delle professioni come categoria identificata all'articolo 11 della direttiva 36 del 2006 poi modificata lettera D quindi la nostra categoria rientra già a livello europeo nelle laureate non magistrali ovviamente laureate i nostri problemi li abbiamo qui in Italia non li abbiamo fuori li abbiamo qui e allora noi abbiamo come dire ipotizzato un percorso lo abbiamo progettato un annetto fa lo stiamo facendo e ora partiremo concretamente e lì dobbiamo lavorare con le scuole perché questo perché non vogliamo trasformare il geometra il geometra il nostro antenato era il perito agrimenzore ieri era a Bologna c'era una riunione della terza commissione dell'FEG la federazione internazionale geometri in quel contesto presso la regione Emilia Romagna è stato come dire caldeggiato il progetto portici di Bologna i portici di Bologna dovrebbero uso il condizionale diventare patrimonio dell'UNESCO quindi la federazione internazionale ha appoggiato questo progetto il consiglio nazionale geometra ha appoggiato questo progetto allora dovete sapere che i portici di Bologna non sono pubblici la maggior parte sono privati perché all'epoca 1200 anche prima costruivano questi portici per fare erano abusi che poi sono diventate cose invece importanti i nostri abusi fanno schifo andrebbero distrutti gli abusi vecchi evidentemente sono più importanti e hanno ampliato hanno costruito questi portici perché i laboratori i negozi potevano esporre la merce lavorare la gente poteva passarci e tutt'oggi sono privati allora dovete sapere ho letto che nel 1294 furono costituiti delle commissioni miste comunali e di tecnici per individuare i confini fra le aree private e le aree pubbliche allora quei tecnici erano periti agrimenzori i nostri antenati nel 1294 allora detto questo perché ho fatto riferimento a periti agrimenzori per dire da dove arriviamo da periti agrimenzori siamo diventati geometri e noi ora dobbiamo avere la forza e vi dirò come di diventare geometri laureati questo è il futuro perché il documento delle professioni del 2020 dice che l'attività professionale è un'attività intellettuale per la quale occorre una certa preparazione quindi questa è la nostra strada e non è non ci si sposta di lì perché se troviamo tutte le scappatoie non usciamo di lì la strada è la laurea come arrivarci allora qui le strade si dividono in due uno gli attuali iscritti e uno il mondo dei giovani parliamo del mondo dei giovani innanzitutto attraverso un corso di laurea che sia ovviamente identificatore della figura del geometra noi non vogliamo essere né ingegneri junior né architetti junior vogliamo essere geometri è stato parlato qui dell'ITG e del CAT nel CAT si studia diritto solo per due anni i primi due anni la caratteristica del geometra è questa commistione fra conoscenza del diritto e tecnica pratica se facciamo una consulenza d'ufficio ma si può fare una consulenza senza conoscere un minimo di diritto di procedura di capire come ci si muove oggi nel costruire un fabbricato quante norme dobbiamo sapere forse anche troppe si dovrebbe più conoscere magari il costruito che le norme però in effetti pensa di più le norme in tutti i settori ci sono le norme e quello che ha sempre caratterizzato il geometra è sempre stato il diritto e nel CAT questo si perde vero che nei percorsi poi parlerò dopo ritorniamo al progetto perché perlomeno vi do dei concetti molto chiari per ogni punto e poi alla fine avete il quadro completo come ci arriviamo allora attraverso un corso di laurea a curriculum fissato nel senso che l'università che lo vogliono organizzare lo devono fare solo in quella determinata maniera un corso di laurea che però e qui richiamo anche un articolo che mi ha dato stamattina Luciano quando dice sviluppare diplomi tecnici e lauree brevi equivalenti che trovi una buona accoglienza sul lavoro e che accellino l'ingresso dei giovani sul mondo del lavoro oppure di qui la terza proposta dobbiamo accrescere il ruolo dell'ITS ma anche tenere più professionalizzanti alcune lauree triennale noi vogliamo che questo corso di laurea sia già abilitante all'interno di questo corso di laurea ci deve essere l'interno del collegio locale ci deve essere già il praticantato e all'interno quando il ragazzo esce fuori deve solo fare la domanda di iscrizione al collegio immediatamente non vogliamo creare dei professionisti non dei futuri professionisti che si formano nel tempo come fare questo corso di laurea nelle università tradizionali ecco entra il mondo scolastico ed entra il CAT vogliamo creare nei CAT i poli tecnologici dove fare questo corso di laurea quindi il ragazzo che inizia la scuola la proseguirà se vuol prendere quella laura nello stesso istituto con le università telematiche con l'aiuto dei professori utilizzando le scuole CAT quale poli tecnologici questo è il percorso e non è utopia questa mercoledì con Maurizio siamo andati dal ministro Giannini e ci ha detto che è un progetto concreto e ci ha detto di andare avanti nel lavorare a questo progetto noi lo vorremmo portare in porto per un altro anno forse è un po' ambizioso il risultato siamo forse peggio di Renzi però vabbè ci proviamo voglio dire prima possibile allora il ragazzo che cosa fa inizia la scuola presso l'istituto costruzione ambiente e territorio poi decide di proseguire e prosegue all'interno della scuola quindi per Genova problemi non ci sono che c'è università per Pisa nemmeno ma per Aulla che o vengano a Pisa o vengano a Genova o vanno a Parma se rimangano a casa forse non è che li può sta torto anche in questi periodi di costi e quindi mantenere un ragazzo fuori ha un costo notevole con gli stessi professori distanza si tratta poi di risolvere tutti i problemi tecnici ma l'orientamento è quello e questi giovani ovviamente usciranno già con l'abilitazione all'esercizio della professione basta che si iscrivano e iniziano nel contempo ci sono chi è già iscritto studieremo percorsi perché chi è già scritto possa prendere la laurea io sinceramente non lo so se lo farò questo percorso però mi piacerebbe molto farlo quindi riconoscimento di crediti formativi ci possono essere strade certo non più come erano prima 120 crediti su 180 però ci può essere delle strade e ci aiuterà molto la formazione continua obbligatoria perché nel 137 è previsto questo accordo mondo universitario mondo professionale per cui se io faccio un esame universitario mi conta per la formazione continua professionale quindi io posso anche ipotizzare di iniziare a fare esami e poi alla fine dice beh un anno studio e prenderò la laurea per cui posso arrivare a prendere la laurea perché noi vogliamo che da qui a 30 anni perché chi inizia il CAT ora deve avere la possibilità di iscriversi con gli attuali percorsi che ora vi andrò a dire da qui scusate ma vengo da un frutto di stagione ecco scusatemi allora dicevo da qui a 30 anni nell'albo dei geometri ci sarà ci saranno solo geometri laureati questo è l'obiettivo che vogliamo fare quindi un progetto a grande respiro che coinvolge il mondo scolastico coinvolge il mondo delle professioni e dà una precisa identità al geometra che è nato dico per modo di operava già nel 1294 aggiornandoci con tutti i mezzi tecnologici che ci sono ora perché lei ha perfettamente ragione che non si può pretendere di rimanere sempre fermi bisogna muoversi cambiare vedere dove va il mercato dove va la società perché poi il nostro lavoro viene venduto in società io non so se questa luce abbronza e allora forse ottengo anche dove va perché dobbiamo stare attenti le esigenze del mercato perché poi noi ci poniamo sul mondo del mercato se sul mondo del mercato il nostro lavoro non è apprezzato serve a poco fare tutto questo quindi dobbiamo andare in combinazione mondo scolastico mondo professionale ma con particolare attenzione al mondo del mercato queste sono le prospettive future su cui stiamo lavorando e a breve spero di poter concretizzare il lavoro come avviene oggi l'iscrizione l'iscrizione oggi avviene in una maniera veramente complicata per usare un termine tecnico che il professore sicuramente mi capisce accediamo alla professione con tre livelli di EQF EQF 4 EQF 5 EQF 6 a livello europeo sono stati definiti livelli di apprendimento EQF 4 è il diploma o tecnico che esce dal CAT EQF 5 è l'ITS EQF 6 è la laurea cosiddetta laurea si chiama non laurea triennale è la laurea non è la laurea magistrale capite bene che se rimane questa struttura cosa saremo tra 15 anni la categoria dei geometri un miscuglio fra laureati uno nella via di mezzo e uno diplomato non va bene perché una categoria identifica un modo di lavorare alla fine poi qualcuno potrà dire ma io sono un geometra laureato allora ho più competenze di Luciano Picinelli da Antonio Benvenuti e cosa si fa ci si divide anche all'interno dell'arbo come hanno fatto gli ingegneri e gli architetti quando poi l'architetto junior che è rappresentante degli architetti junior a livello nazionale è già laureato magistrale però non può iscriversi all'albo pensano perderebbe il posto al consiglio nazionale cioè cose assurde oppure come gli ingegneri escano e poveracci non sanno nemmeno di cosa sono o cosa possano fare e qual è la strada continuano gli altri due anni no è stata una riforma che forse è fatta bene sulla carta ma di fatto come dire bocciata dal mondo della scuola e dal mondo del lavoro e quindi boicottata tra virgolette ma non ha funzionato e non è chiara noi invece la sappiamo la nostra strada noi ci vogliamo porre a livello intermedio sotto i laureati perché quello è il nostro livello noi non li vogliamo fare il laureato l'ingegnere o l'architetto noi vogliamo fare i geometri però ci dobbiamo come dire a partire dal mondo scolastico aggiornare perché se il CAT è sceso di livello è chiaro che chi esce da quella scuola ha un gap rispetto al mondo professionale veramente forte e non riuscirà poi a superarlo questo gap specialmente in una situazione di mercato come ora economica come ora è certo che non è facile e quindi troverà notevole difficoltà anzi inizia il mondo del lavoro non vogliamo una categoria omogenea non vogliamo che arrivino a iscriversi il geometra chi fa l'ITS chi fa l'IFTS chi fa la laurea no questo no deve arrivare soltanto una figura chiara quella che vogliamo noi quella che chiede il mercato con una stretta collaborazione tra il mondo professionale e il mondo della scuola questo è in grande linea il progetto che vogliamo fare e chiaramente qui dobbiamo avere la massima collaborazione abbiamo avuto di e l'altro questa è una novità di e l'altro mercoledì via libera politica poter lavorare quindi presenteremo al CUN e alla CRUI il nostro progetto di laurea curriculum fissato presenteremo un progetto di legge che dovrà essere appoggiato dal ministero del MIUR e ovviamente della giustizia che andrà a individuare un mezza paginetta che andrà a individuare questo preciso percorso geometra laureato questa è la nostra strada che dobbiamo seguire nel frattempo chiaramente manteremo in piedi tutte le strade perché ripeto chi inizia oggi il CAT dovrà avere la possibilità di fare il solito percorso di 18 mesi di tirocinio o i 6 mesi alternativi previsti dal 137 dare l'esame di state e continuare quindi di questa strada sicuramente se ne parlerà di tanti anni ma nel futuro avremo chiaramente un obiettivo da raggiungere e attraverso il riconoscimento della laurea si avrà anche il riconoscimento delle relative competenze che non potranno mai essere inferiore all'ingegnere Iuno o all'architetto perché l'inquadramento di questo tipo di laurea è nella L07 per cui è nello stesso livello di apprendimento e quindi deve avere la stessa identica competenza facendo così risolveremo anche il problema delle competenze e il geometra attuale diventerà come un attributo di Moicani ci sarà poi alla fine l'ultimo geometra che rimane diplomato e finirà così per i colleghi ovviamente io a 30-40 anni sicuramente questo percorso lo dovranno fare verranno studiati dei percorsi idonei in modo che col mondo del lavoro si possa acquisire anche la laurea la professione implica delle conoscenze sempre più forti io ho 57 anni quindi un po' d'esperienza l'ho vista e devo dire che il mondo professionale è notevolmente cambiato rispetto al passato io mi ricordo sempre da giovane era appena iscritto partecipare in un'assemblea dove c'era il presidente Bini era il presidente dell'allora cassa che lui disse che ai suoi tempi prima di comprare c'era pochi soldi ma se doveva scegliere fra comprare un panino e comprare un libro comprava un libro perché gli serviva per lavorare forse non siamo più a quei tempi fra panino o libro oggi c'è molto di più ma forse c'è qualcosa anche di più grave della mancanza dei soldi la volontà di voler fare delle cose questa è la speranza del futuro ce la dobbiamo avere tutti credere nel futuro impegnarsi avere passione nel raggiungere i propri obiettivi questa è una cosa importantissima per un ragazzo giovane che mi sembra però io non ho esperienza però vedere i giovani sono in giro beh tutto è subito rapido senza durare nessuna fatica invece a questo mondo non ti regala assolutamente niente nessuno io non so se l'ho toccato tutti gli argomenti Luciano se sono stato troppo veloce troppo io sono qui a completa disposizione magari anche per intervenire dopo grazie Luciano grazie Antonio allora abbiamo avuto una panoramica adesso dal punto di vista professionale per cui quelli che sono gli attuali scenari e quelli che ha intenzione di mettere in atto il consiglio nazionale per quanto riguarda la nostra futura fisionomia insomma di geometra io condivido quello che diceva Antonio lo condivido perché è un ragionamento fatto già da da tempi passati voglio dire quello di andare a individuare una figura o meglio una laurea che identifichi la nostra figura professionale senza doverla in qualche modo ricavare attraverso denominazioni strane per cui sono assolutamente d'accordo su questo quando arriverà l'assessore Rossetti io introduco un attimo non l'argomento di cui parlerà ma uno dei punti visto che mi ricollego all'approccio mondo scolastico mondo del lavoro e mi collego all'ITS in particolare perché credo tutti voi sappiate che a Genova è stato inaugurato l'anno scorso il primo corso ITS che abbiamo voluto definire geometra del mare giusto per dargli un'identità che continui a rimanere tale come geometra e che forma un ragazzo diplomato su materie temi e argomenti specifici che caratterizzano il nostro territorio nazionale perché parliamo di geometra del mare parlando di tutte quelle che sono le materie che di fatto hanno a che fare col mare noi qui ci siamo di fronte ma il fatto di costruire un porto una diga il fatto di considerare tutto quello che è la parte amministrativa che disciplina la proprietà demaniale quelli che sono i rilievi battimetrici cioè tutta una serie di specificità che fanno parte della nostra disciplina scolastica che di fatto vengono approfondite e quello che diceva prima Antonio accrescere culturalmente la nostra categoria la nostra figura è proprio uno dei motivi a cui teniamo molto e riteniamo che questo ITS unico in Italia è partito la seconda edizione per altri 20 ragazzi da poco il 27 di ottobre sono due anni due anni che consentono a questi ragazzi appena diplomati di maturare il periodo del praticantato per cui di fatto alla fine del biennio di ITS possono accedere all'esame di abilitazione e iscriversi all'albo ottenendo in questi due anni una specializzazione di direi alto livello dico direi di alto livello perché forma questi ragazzi in materie che hanno già conosciuto a scuola ma che di fatto vengono approfondite in maniera profonda ma la cosa molto particolare è il fatto di aver individuato almeno riteniamo di aver individuato una figura nuova non una figura che si avvicina ad altre figure professionali già esistenti cioè era inutile a nostro avviso creare con tutto quello che poi è il dispendio di energie per un ITS energie anche sotto il profilo economico creare una figura che poi di fatto si scontrasse nella realtà con qualcosa che esisteva già e ovviamente noi avendo a che fare con geometri architetti ingegneri di fatto una figura che non andasse a ripetere quelle che potevano essere le specializzazioni di una o dell'altra categoria riteniamo che proprio queste specificità introdotte con il geometra del mare non esistano in altre figure professionali non esista una figura professionale ad hoc che si occupi di queste materie e questo lo riteniamo molto importante perché darà la possibilità a questi ragazzi peraltro diciamo che nel primo corso i 20 ragazzi che stanno completando il bienio hanno già avuto oltre richieste da aziende ovviamente loro avranno la possibilità di iscriversi all'album ma hanno avuto già diverse richieste per inserirsi nel mondo del lavoro e questo è importantissimo visto con l'ottica attuale dopodiché farei il coffee break aspettiamo l'arrivo dell'assessore e poi riprendiamo con l'ultimo intervento grazie allora riprendiamo posto così concludiamo la mattinata allora benvenuto all'assessore Rossetti e grazie di essere intervenuto visto che in questi giorni il suo intervento è richiesto da più parti deve girare molto credo che ormai conoscerà la fiera a memoria non so onestamente non vorrei mancare di rispetto cosa possa aver ascoltato in tutti i diversi incontri a cui ha partecipato però la presenza perlomeno voglio dire ha cercato di sdoppiarsi e di essere un po' da tutte le parti col dono dell'ubiquità gli facciamo chiudere la nostra mattinata dove l'argomento è la Liguria fra complessità del territorio e coste la professione del geometra beh beh non aggiungo altro non posso aggiungere che un qualcosa di geometra anche lui non posso aggiungere no veramente questo lo posso aggiungere perché ve l'ho anticipato prima il discorso dell'ITS del geometra del mare a cui ovviamente parte di quella che è la realtà che siamo riusciti a mettere insieme è anche merito suo però non aggiungo altro e a questo punto ti lascio la parola e ti ringrazio ancora della presenza e dell'intervento bravo grazie perfetto sì buongiorno a tutti io mi scuso anche perché la mia presenza è una presenza veloce non ho potuto seguire i lavori prima non ascolterò le conclusioni e il bello di ABCD che ci sono 349 momenti di confronto di incontro di approfondimenti e tendenzialmente vorrebbero che io andassi a tutti e quindi faccio un po' come il Papa insomma io passo a benedire e perdo tutti i contenuti che invece sarebbero la cosa più interessante da prendere però è anche giusto come dire rappresentare anche il lavoro che in questo salone non vorrei sfuggire se a nessuno è un lavoro sinergico di molte istituzioni e di molte realtà scolastiche professionali come oggi qui e devo dire la sinergia è un elemento fondamentale e vincente il il vostro collegio bisogna dargli atto e merito fa molto per la scuola e fa molto per l'orientamento rispetto a questa professione questo è un paese molto strano perché parrebbe ogni tanto che addirittura cambia molto per non cambiare nulla quindi abbiamo anche cambiato il nome alle scuole e una difficoltà del buon orientamento è quello che dobbiamo riarticolare ogni volta per le scuole e gli indirizzi reali che la gente conosce per cui questa idea che non ci sia più il geometra nasce anche dal fatto che noi avevamo una scuola per geometri che ora si chiama in un modo molto più lungo e articolato per cui la gente comune come è solito dire dice mio figlio va alle medie ma non si chiamano più medie il merito del collegio è stato quello di averci chiesto come dire una collaborazione e che noi abbiamo ha voluto dare perché convinti che ci sia la necessità in questo paese di recuperare il percorso della formazione di base quella delle scuole superiori fino all'alta formazione come GTS sui profili tecnici in questo paese gli atenei non laureano meno laureati degli altri paesi ma siamo in fondo alla classifica dell'Europa per numero di laureati perché non ci sono i titoli superiori di tipo tecnico la possibilità di introdurre il geometra del mare cosiddetto cioè di costruire delle collaborazioni con il nostro ITS che si occupa prevalentemente di navigazione è stata un'opportunità evidentemente straordinaria e richiama alla cultura del paese in cui noi siamo immersi il tema centrale è quello di verificare valutare sotto profilo anche statistico ma proprio culturale il fatto che per troppo tempo il nostro paese ha maturato nei confronti del lavoro un rapporto molto strano che cercherò di rappresentare sinteticamente ed anche ha avuto una come dire distorsione rispetto a quello che era considerato il processo di livello come dire qualitativo del lavoro in sintesi a un certo punto noi abbiamo pensato che l'istituto tecnico l'istituto professionale l'attività del saper fare un mestiere il manifatturiero fosse un percorso di professionalità di vita di autonomia della persona meno significativo di status sociale inferiore addirittura economicamente inferiore rispetto ai percorsi più tradizionalmente conosciuti che sono fai il liceo fai un percorso intellettuale vai a fare un lavoro in un ufficio prenditi una laurea e quindi come se il professionista geometra tecnico come se tutta l'attività artigiana di questo paese da cui è scaturito il Made in Italy fosse come dire una cosa appartenente al passato e da superare abbiamo fatto anche un altro grave errore in questo paese che attiene al rapporto con il lavoro e con l'ambiente e mi piace discuterne anche un po' con i geometri che come dire gestiscono il territorio possono deturparlo possono difenderlo e ci siamo a un certo punto non ribellati all'idea che i nostri imprenditori le nostre imprese medie grandi ma anche le piccole imprese potessero delocalizzare gli stabilimenti produttivi per l'imprenditore voleva dire pagare meno maestranze avere forse più libertà rispetto a dei criteri di inquinamento di regolamentazione di autorizzazione quindi anche una fuga dai mali del nostro paese la burocrazia e dall'altra parte però la cittadinanza è come se ne avusse avuto spesso un sollievo perché il cappannone puzza fa rumore fa fumi porta i camion deprezza il livello della mia abitazione perché un conto è avere la casa dove che insiste su una fabbrica un conto è avere la stessa casa che insiste su un giardino pubblico contornato da un centro commerciale come se il lavoro e quello tecnico e quello professionale e la produzione potessero stare altrove perché noi ne avevamo un giovamento e l'Italia come i paesi europei i paesi occidentali questa sfida l'hanno persa perché ci siamo accorti che evidentemente quel segmento di economia straordinario era la base della nostra economia cioè del nostro benessere adesso noi abbiamo perso circa il 25% della produzione a partire dal 2008 in questo paese e voi direte ma che c'entra un geometra dice parte che un geometra è un italiano anche lui ma c'entra perché questa dimensione potrebbe rappresentare la faccia di una medaglia dove l'altra faccia rappresenta un rapporto con l'ambiente tutto particolare che io lo semplifico così giriamo per Genova e ci chiediamo chi sono stati quei matti che hanno pensato che questa città potesse crescere così al mio papà geometra che lavorava le gavette chiedevo ma come avete immaginato il lagaccio con due metri di strada e una marea di edifici ma in quei tempi quando si costruiva non si pensava alle macchine c'era una dimensione della qualità metro quadro persona diverso si pensava che la qualità della vita non si traducesse come dire in quella qualità io mi chiedo quanto ci fosse di arretratezza culturale quanto ci fosse di interesse economico quanto ci fosse di incapacità di chi programmava il territorio prima grande funzione di un sindaco di un comune il piano regolatore ora abbiamo cambiato nome anche lì però la regolamentazione del processo dello sviluppo urbanistico del territorio la sua conservazione la sua rovina è un maldestro paese che continua a rovinarlo assumendo che non si deve far nulla per difendere l'ambiente per cui un compattatore della spazzatura ci dà fastidio ed è bene che sia un po' più in là perché la mia spazzatura deve essere compattata nel quartiere vicino è inaccettabile che la spazzatura del quartiere vicino venga compattata dove abito io l'ambiente come elemento da tutelare in maniera assoluta adesso mi hanno dato questa parte di parchi ambiente o anche i SIC le aree protette per la biodiversità prima distorsione Ligure ne abbiamo più della Toscana perché a un certo punto negli anni 90 si è pensato che l'Europa mettesse molti soldi per ogni SIC e quindi si è moltiplicato sulle palanche quindi abbiamo fatto molti SIC non abbiamo preso un euro abbiamo vincolato il territorio un sindaco non può tagliare gli alberi in alveo perché in zona SIC come se gli uccelli migratori se non avessero quei 5 10 alberi del fiume non sapessero dove posarsi quindi la tutela ambientale come elemento ideologico che come dire non consente di scrivere e cercherò a tutti i costi di scriverlo che la biodiversità si protegge anche senza un albero in alveo perché è così e vi posso dire che alcuni sindici mi hanno detto ma quando è venuto giù l'ira di Dio ha piovuto e i fiumi sondavano noi gli uccelli migratori sugli alberi dei fiumi non li abbiamo visti erano da qualche altra parte non sono mica scemi allora mi direte la prendi da lontana insomma io credo che noi abbiamo la necessità in questo paese di riuscire a fare due cose in una da una parte ridare qualità valore dignità ai corsi tecnici e professionali agli studi tecnici alle professionalità tecniche io credo che mediamente se in una famiglia un ragazzino alle medie inizia a dire che finite le scuole medie vuole andare a fare un mestiere il carrozziere questo non rappresenta una sua opportunità ma un problemino per i genitori ma come non fai il liceo non fai le scuole superiori i cinque anni voi sapete che i carrozzieri italiani sono i più famosi del mondo un carrozziere battitore cioè quelli che battono la carrozzeria per fargli entrare le bugne e toglierle guadagna anche 6-7 mila euro al mese nei paesi arabi dove si comprano le Ferrari le Maserati i marchi italiani e dove si vogliono i battitori italiani ma non è una questione di denaro e non fraintendetemi poi il denaro dice Govi che quando non c'è già una mezza malattia perché la salute è la cosa più importante ma come dire è qualità del lavoro è realizzazione di sé immaginare che un emirato arabo possa chiedere a me di andare lì a mettergli a posto la Ferrari può fregarmene niente del soldo e dell'arabo e della Ferrari però come dire è come se Guccinelli l'avessero chiamato a fare il geometra più bravo del mondo a fare chissà quale cosa a New York a Parigi insomma poi Guccinelli lo fa di nascosto ma è chiaro perché c'è una dimensione del lavoro e c'è anche una dimensione dello studio non è il lavoro che fai che ti fa star bene ma è come lo fai e la dignità della persona nasce non dal mestiere che fa perché il medico professione molto come dire valutata per funzione ci salva la vita per censo perché come dire i medici abbiamo l'idea comunque che appartengono alle categorie che più guardagnano per status perché come dire il medico è il medico se un medico maltratta il paziente non gli spiega niente non gli parla è nella sua relazione poco educato poco conciliante poi deve essere un chirurgo quindi lui taglia per far del bene non può avere come dire atteggiamenti diplomatici ma se un medico non esprime umanità col paziente sarà anche un bravo chirurgo ma è un pessimo medico e la dignità della persona non la fa quindi quello che lui fa ma è come lo fa e se io faccio anche un mestiere tra virgolette più umile ma lo faccio con la dignità di uno che se deve pulire i locali di una scuola lo fa con serietà con attenzione con impegno lui alla fine giornata si fa pulizie ma è una persona degna del lavoro che fa del mestiere che ha della rappresentanza di sé rispetto al mondo io utilizzo abcd anche per dare un po' di questi messaggi perché questo paese ha bisogno di riscoprire un po' degli elementi che fanno parte in modo costitutivo della coscienza della gente di noi stessi di noi che ci possiamo guardare negli occhi e chiederci come diavolo facciamo a uscirne dai problemi in cui siamo se noi avessimo sempre ottimi professionisti avessimo avuto sempre ottimi urbanisti ottimi architetti anche mi permetto di dire ottimi geometri se avessimo avuto ottimi assessori non vorrei essere frainteso noi forse questa città avremmo evitato di immaginarla così io lo dico perché nessuno ha voglia di dirlo i genovesi vivono in area allagabile in 90.000 siamo 90.000 quelli che vivono io no devo dire ma siamo tutti genovesi poi se non ci vivi c'è il figlio che ci va a scuola magari ci lavori tua moglie o tuo marito il tuo compagno la tua compagna ci stanno ci lavorano se non ci vivi tu ci vive un tuo parente perché siamo 600.000 vuol dire che come dire è quasi uno su sei quindi quasi tutte le famiglie trovano motivo per essere coinvolte e quel benedetto buco del bisagno fatto da Mussolini quando è stato fatto qui faccio il geometra non so se l'imbuto aveva una larghezza adeguata ma so che quando è stato fatto quell'imbuto la bocca dell'imbuto era molto più stretta cioè non ci avevamo centurione braccelli il biscione tutte le case che ci sono sopra i rivi sopra il ferreggiano non ce l'avevamo tutto quel cemento che portava rapidamente l'acqua a quel buco e allora se il nostro Dio ci ha regalato un mondo bellissimo perché come dire quando io quando sono arrabbiato la sera faccio Corsi Italia e mi aiuta un po' non è che mi risolve i problemi del bilancio della regione ma mi aiuta e se però i nostri vecchi ci hanno lasciato cose bellissime come questa fiera come dire le tradizioni professionali di questo territorio la nostra storia la nostra arte e però ci hanno anche lasciato un disastro e allora noi dobbiamo pensarlo che sia una malattia cronica e quando uno ha una malattia cronica può fare due cose uno far finta di niente quindi mangio anche se ho il diabete due prendo le medicine mantengo una condotta di vita che mi che mi consente di stare abbastanza bene e godermi la vita ma come dire mi difende dal fatto che avendo una certa malattia mi devo dare certi limiti lo dico perché questo salone è stato pesantemente condizionato dalle allerte e ce lo siamo chiesti quale dovesse essere l'atteggiamento poi abbiamo maturato che l'idea era quella che anche noi facciamo parte a bcd di questo problema e quindi potevamo gestirlo dicendo che se era prudente non venire non bisognava venire se bisognava venire con attenzione era bene farlo che non era tanto solo il numero dei ragazzi 55 mila visitatori lo scorso anno quest'anno vediamo perché ve lo dico io sono meno ma non era tanto importante la massa era anche importante la qualità e ho fatto questo discorso perché in questa dimensione devo dare atto al collegio vi sentiamo vicini noi abbiamo bisogno che le professioni gli artigiani le imprese le aziende il mercato del lavoro si occupi di scuola e di formazione noi abbiamo bisogno che i ragazzi crescendo non si sentano nella fase pre lavorativa estranea nel mercato del lavoro e guardate anche qui c'è sempre l'altra faccia infatti quando ti dicono che prima studi prendi il titolo e poi vai a lavorare appena vai a lavorare pensi che finalmente hai finito di studiare il 50% delle imprese italiane non usano i fondi interprofessionali che sono i fondi dei loro lavoratori per fare la formazione continua questo paese è riuscito in un colpo a creare una distanza che si subisce da ragazzi perché le stranità del mercato del lavoro non consente di fare esperienza e da lavoratore perché se prima studi e poi lavori non ti aggiorni e una parte della crisi economica del nostro paese nasce da qua da una scarsa complessiva qualità delle maestranze e da una non chiara competenza professionale da spendere rapidamente sul mercato del lavoro allora avere un collegio che viene da bcd fa il geometra del mare mi fa l'orientamento nelle scuole spiega che il geometra esiste ancora perché il mio papà quando mi hanno detto che non c'era più la scuola per geometri mi ha detto siete tutti matti e mi disse non ci volete mica far diventare tutti ingegneri caspita allora io spero di avervi dato un contributo e vi ringrazio ringrazio piccinelli perché in questi anni ci ha sollecitato ci ha stimolato e mi auguro che come dire il trasferimento delle conoscenze delle competenze si ha anche dentro a questa idea del lavoro come momento in cui ognuno di noi si gratifica realizza se stesso poi i ragazzi i giovani dicono sì Rossetti stai parlando di una cosa che noi non abbiamo perché trovare lavoro è più difficile che lavorare devo dire che se c'è una professione che ancora si può spendere perché è duttile perché i settori sono diversi attenzione perché i comuni paradossalmente possono fare a meno dell'assistente sociale perché hai come dire la cooperativa non fanno quasi più gli operai perché fanno come dire a parte Aster ma un altro discorso fanno lavorare le imprese ma generalmente in tutti i comuni se il geometra va in pensione viene assunto un geometra proprio in virtù di quella programmazione territoriale che è se non il punto più importante tra uno dei punti più importanti della funzione di gestione di un'amministrazione comunale quindi abbiamo spettri di mercato di lavoro forse più ampi di altre professioni se noi riuscissimo a sviluppare con questa cultura ulteriori percorsi di specializzazione a sostegno della vostra professionalità noi ci siamo perché parliamo di una filiera e quindi puoi fare l'università puoi fare l'ITS fai una scuola superiore che non ti impedisce di fare qualsiasi altra università il nostro sistema regionale consente ogni volta di prendere una passerella e di andare altrove se faccio un liceo ma scopro che volevo fare un'altra cosa nulla è impedito per passare da un percorso di studio a un altro è fondamentale perché poi le persone già due sono venuti a dirmi che erano laureate a 25 anni e dopo sei mesi di tirocinio hanno detto a papà e mamma che quello non è il loro lavoro con voti alti in laurea e stile giurisprudenza quindi io ho detto loro che tutte e due hanno 25 anni ho detto loro che il tempo dell'orientamento non finisce che con questo bagaglio non avranno difficoltà a fare altri studi e che quindi cercassero di capire quale era il lavoro per loro perché con una laurea così forte anche un percorso di studio triennale come dire può correre veloce quindi noi non dobbiamo aver paura di scoprire quello che risponde a noi stessi però dobbiamo costruire un percorso non evitare che dopo un percorso scopro che dovevo farne un altro perché è evidente che è un errore io credo che se avessimo ancora possibilità di collaborazioni con voi nella filiera di tutta la componente edile noi poi non è solo questo per voi noi dobbiamo lavorare sulle qualifiche e sui titoli a me piacerebbe che i nostri ragazzi si sentissero su un'autostrada quando tu entri in un casello più o meno sai dove devi andare non dovrebbero esserci più caselli che ti lasciano non in una località ma su un prato sperduto tu puoi entrare per andare in un casello ma in un'autostrada se vuoi puoi anche cambiare strada riuscire a riprendere e andare in un'altra destinazione ma sarebbe bello che ogni volta che uno esce dal casello con un titolo e una qualifica sapesse quel titolo e quella qualifica come se lo spende sul lavoro e solo se chi è fuori dal casello ci dice di cosa ha bisogno quali sono le competenze da esprimere quali sono le conoscenze che si devono avere quali sono le curvature dei percorsi formativi allora noi riusciamo a dare una mano a chi in autostrada se trova una direzione poi abbia una direzione che lo porta lo aiuta lo agevola termino dicendo che stiamo riflettendo su quali sono i messaggi che stiamo dando ai giovani è evidente che il lavoro ce n'è poco evidente che l'allungamento dell'età del lavoro toglie il lavoro anche ai giovani è evidente che trovare lavoro l'ho detto è più difficile che lavorare però viva Dio anche su questo territorio ogni anno decine di migliaia di persone iniziano a lavorare e quindi c'è un grande complicato difficile antipatico segreto che è quello della motivazione e dell'impegno individuale il sistema il mercato del lavoro è sempre più competitivo noi possiamo fare convegni per la nostalgia del posto fisso della persona che trovavano tutto il lavoro dei tempi che quando negli anni 60 volevi fare qualcosa ce la facevi ora no passatevi le mattinate in questi convegni però è vero molti trovano e bisogna riuscire a riempirsi lo zaino di tutte quelle cose che sono utili per poi poter approcciare questa faticosa salita avendo tutti gli strumenti per trovare anche il lavoro questo io lo dico abbiamo passato stagioni in cui dicevamo ai giovani diventate imprenditori di voi stessi io dico bisogna solo farsi un gran mazzo la fortuna nella vita serve bisogna farsi un gran mazzo lavorare però duro sodo adesso lo twitto la buona scuola è dove si lavora tanto e e queste sono le cose che io ho respirato nel salone passando così come faccio adesso dicendo delle cose andando via ma ho l'impressione che ci sia questo ieri sera lo dico perché siamo rimasti tutti contenti direi quasi commossi alle 23 il salone abcd era pieno di gente perché gli insegnanti fuori orario di lavoro anche dall'università hanno accolto gli studenti e i genitori gli amici parenti e hanno fatto l'orientamento by night ci siamo persi inchiesto con la Sara ma se facessimo l'accoglienza dei genitori a scuola il ricevimento alle 8 di sera forse si vedrebbero anche i papà non lo so gli insegnanti ad abcd ce l'abbiamo fatta poi vediamo allora sono tutti segnali che mi fanno dire il mercato la crisi la fatica è inutile dirla la gente disperata dell'alluvione ne abbiamo tanta voi avete fatto questa cosa meritoria ormai è una virtù perché una buona abitudine diventa una virtù di mettere a disposizione gratuitamente le vostre competenze per gli alluvionati e questo è un segnale quando io ho chiamato a Montoggio gli ho detto guardate che c'è l'ordine dei geometri a Casella c'è un'unità del collegio mi hanno detto no no ma c'è la mi sembra rosa la Maria dice c'è la geometra del paese che sta facendo gratis per tutti ditegli di telefonare ai colleghi che si metta in rete e quei commercianti mi dicevano ma meno male che ci telefoni perché come dire io non ho portato nulla ma c'era un'attenzione collegiale della comunità e questo da anche grazie al vostro impegno quindi vi saluto vi ringrazio continuiamo a collaborare diamo questo messaggio è dura ma non è impossibile è dura ma non è impossibile è impossibile grazie buon lavoro a tutti posso dirti il minimo grazie grazie per aver dedicato del tuo tempo a noi e grazie anche per l'intervento che hai fatto visto e considerato che non è che l'hai fatto certamente per il momento perché ci conosciamo e ci siamo conosciuti devo dire non ci conoscevamo prima per cui ci siamo trovati e ci siamo piaciuti se posso usare questo termine tra virgolette perché poi praticamente abbiamo lavorato e speriamo di poterlo fare ancora in futuro perché poi lo dicevo all'inizio essere pratici molto spesso aiuta sia per velocità di tempi di reazione sia proprio per la concretezza che ci contraddistingue comunque grazie ancora e a parte la chiusura finale non vorrei farti non la faccio lunga la faccio molto breve così riesci a andare via volevo ringraziare ancora il professor Orliano De Raggi per l'intervento il consiglio nazionale nella persona del vicepresidente Antonio Benvenuti non ti ringrazio più perché sennò sembra veramente che lo faccia allora a questo punto per piageria ecco non è così grazie a voi per essere intervenuti perché avevo detto all'inizio c'erano poche persone la cosa mi rammaricava invece poi devo dire che durante la mattinata insomma la sala si è riempita mi ha fatto piacere spero che possa essere di aiuto a tutti soltanto un dato molto veloce riprendeva prima il vicepresidente un articolo che mi era stato segnalato sul sole 24 ore di domenica scorsa riferito sempre agli ITS scuola lavoro un passaggio dice quanta l'istruzione post diploma gli ultimi dati del MIUR indicano 7.000 iscritti nei percorsi professionalizzanti pari allo 0 questo è il dato pari allo 0,25 del totale degli universitari rispetto al 29% in Germania al 35% in Svizzera al 33% in Francia al 28% in Spagna al 21% in Austria cioè voglio dire noi abbiamo lo 0,25 allora dobbiamo certamente cambiare qualcosa diceva prima il professore è un continuo cambiamento vero ci dà un fastidio i cambiamenti perché basta se ormai mi ricollego al telefonino perché è diventato l'icona però basta cambiare le modalità del telefonino e già almeno per me diventa un problema però bisogna cambiare perché effettivamente dobbiamo adeguarci ai tempi e in quel modo lì come abbiamo fatto tra l'altro come geometri partendo da periti agrimensori siamo riusciti a stare al passo con i tempi cambiando qualche denominazione che non è quello che è il cambiamento il cambiamento è un'altra cosa però insomma in bocca al lupo a tutti lo faccio anche a me e grazie ancora per la mattinata grazie a tutti